Ma cos'andò? Movida, le notti poco magiche, folla, rumore, risse e divieti, nell'estate post-lockdown stretta su orari, alcol e musica. Un reportage dell'Espresso ci fa riflettere sul senso del divertimento. Che senso ha il divertimento? E che senso dovrebbe avere? Poche regole chiare, ci salveranno tutti. Grazie per la visione!